Ciao ragazzi, in questo video proseguiamo il discorso sui polinomi che abbiamo cominciato nei video precedenti della playlist parlando dei cosiddetti prodotti notevoli e vedremo in particolare il quadrato del binomio e la somma per differenza. Cominciamo innanzitutto col dire che con il termine prodotti notevoli si intende una serie di semplici regolette che ci consentono di svolgere in maniera molto più rapida alcune operazioni ricorrenti che riguardano i polinomi e che possono poi tornare molto utili per scomporre i polinomi in fattori come avremo modo di vedere nel dettaglio nei video successivi. Senza perdere altro tempo cominciamo subito dando un'occhiata alla prima di queste regolette e parliamo quindi del quadrato del binomio. Supponiamo quindi che ci venga chiesto di svolgere a più b il tutto elevato al quadrato. Ora, in assenza di idee migliori, cioè se uno non ha memorizzato la regoletta che vedremo tra poco, che cosa può fare? Naturalmente può ricordarsi che fare il quadrato di una certa quantità è equivalente a moltiplicare quella quantità per se stessa e a questo punto svolgendo la moltiplicazione si ottiene a per a che fa a alla seconda, poi abbiamo un a per b che dà a b, un b per a che dà un altro a b e poi abbiamo un b per b che dà un b alla seconda. E come vedete abbiamo ottenuto due termini uguali che possiamo a questo punto sommare ottenendo a quadro più 2 a b più b alla seconda. Ora, che cosa sono questi tre termini che abbiamo ottenuto? Beh, vedete, a quadro non è altro che il quadrato del primo dei termini che avevamo nella parentesi, poi abbiamo due volte a b che sarebbe il doppio del prodotto dei due termini che avevamo nella parentesi e poi c'è b quadro che è il quadrato del secondo termine che avevamo nella parentesi. E questo risultato, ovvero questa regoletta che abbiamo appena scoperto, resta valida per qualunque coppia di monomi io vada a sostituire al posto di quelli che qui ho chiamato a e b. E quindi se uno se la memorizza si può volare direttamente dal quadrato al risultato senza dover ogni volta svolgere tutti questi passaggi intermedi e quindi capite con un notevole risparmio di tempo. Per fissare meglio le idee e vedere concretamente come possiamo utilizzare questo risultato diamo subito un'occhiata ad un paio di esempi e cominciamo con il primo in cui ci viene chiesto di calcolare 2x più 3y il tutto elevato al quadrato. Come vedete siamo esattamente in questo scenario solo che al posto di avere a e b abbiamo questa volta 2x e 3y e quindi basterà applicare la regola che abbiamo visto prima mettendo al posto di a il monomio 2x e al posto di b il monomio 3y. Procedendo avremo quindi il quadrato del primo termine, il doppio prodotto del primo termine per il secondo quindi 2 volte 2x per 3y e poi qui in fondo c'è il quadrato del secondo termine. E dunque svolgendo i due quadrati e facendo la moltiplicazione si ottiene 4x quadro più 12xy più 9y quadro. Naturalmente quando uno è allenato salta direttamente da qui a qui. Io adesso vi ho riportato questo passaggio intermedio in cui vedete vi ho evidenziato con i colori i tre termini di cui parlavamo prima ma è chiaro che sono tutte operazioni che poi uno può fare a mente saltando quindi direttamente da qui a qui. Similmente se ci venisse chiesto di calcolare 2x meno 3y il tutto elevato al quadrato saremo nuovamente in questo scenario solo che stavolta al posto di a e b ci sono rispettivamente il monomio 2x e il monomio meno 3y. E dunque in analogia prima svolgendo i calcoli otteniamo il quadrato del primo termine ovvero il quadrato di 2x, il doppio prodotto del primo termine per il secondo cioè due volte 2x per meno 3y e qui in fondo abbiamo il quadrato del secondo termine che avevamo in parentesi. E se svolgiamo a questo punto i due quadrati e la moltiplicazione qui si ottiene 4x quadro meno 12xy più 9y quadro. Naturalmente vale lo stesso discorso di prima e cioè che quando uno è allenato quando uno ha capito salta direttamente da qui al risultato applicando la regoletta e senza alcun bisogno di scrivere questi passaggi intermedi che io però adesso vi metto perché spero che rendano più chiaro il flusso di ragionamento che porta a questo risultato. Vi faccio poi notare che l'unica differenza tra il quadrato che abbiamo svolto prima e il quadrato che abbiamo svolto adesso è il segno del secondo termine in parentesi e dal punto di vista del risultato l'unica cosa che cambia se date un'occhiata è il segno del doppio prodotto che prima era positivo e adesso è diventato negativo. Dunque in generale quando i due monomi che mettiamo al posto di A e B hanno lo stesso segno dobbiamo aspettarci un doppio prodotto positivo, quando i due monomi che ci sono al posto di A e B hanno segno opposto dobbiamo aspettarci un doppio prodotto negativo, mentre per quanto riguarda i due quadrati quelli naturalmente ci verranno sempre positivi proprio perché sono dei quadrati. Vediamo infine un ultimo esempio e supponiamo che ci venga chiesto di calcolare il quadrato del binomio meno 2x alla seconda più un mezzo xy. Di nuovo siamo in uno scenario simile a questo dove al posto di A e B abbiamo il monomio meno 2x alla seconda e il monomio un mezzo xy. E ragionando quindi come prima avremo il quadrato del primo termine che compare in parentesi, il doppio prodotto tra il primo e il secondo termine che abbiamo all'interno della parentesi e poi qui in fondo c'è il quadrato del secondo termine che abbiamo in parentesi. E se a questo punto svolgiamo i calcoli otteniamo 4x alla quarta meno 2x alla terza y più un quarto x alla seconda y alla seconda. Notate che il doppio prodotto ci è venuto negativo proprio perché i due monomi che abbiamo in parentesi, come dicevamo poco fa, hanno segno opposto. E naturalmente non importa che sia negativo il primo e positivo il secondo. Quello che conta per determinare il segno del doppio prodotto è se i due termini in parentesi hanno lo stesso segno oppure no. Apportato questo, prima di procedere oltre vale la pena di fare un paio di osservazioni importanti. La prima, che segue subito da quello che dicevamo poco fa, è che quindi fare il quadrato di una certa somma è diverso da fare la somma dei quadrati degli addendi. E il motivo naturalmente sta in questo doppio prodotto che qui non compare. E la seconda cosa che volevo dirvi è che se assumiamo che A e B rappresentino delle quantità positive, allora possiamo anche dare volendo un'interpretazione geometrica a questo risultato. E per farlo basta dare un'occhiata alla figura qui a destra. Immaginate infatti che A più B sia un numero che rappresenti la lunghezza del lato di un quadrato, ok? Quindi questo è un quadrato di lato A più B. Ora, come vedete dalla figura, il nostro quadrato lo possiamo scomporre in un quadratino di lato A, un quadratino di lato B e poi ci sono due rettangoli che hanno per dimensioni A e B. E quindi vedete l'area del mio quadrato di partenza, che naturalmente in termini numerici sarebbe A più B il tutto elevato al quadrato, la posso pensare come la somma dell'area di questo quadratino, che sarebbe A quadro, l'area di questo quadratino, che sarebbe B quadro, e poi le aree dei due rettangoli, ciascuno dei quali avrebbe come area AB. Ed ecco quindi il termine 2AB che vedete qui. Apporato questo diamo finalmente un'occhiata al secondo prodotto notevole, che è noto come somma per differenza, proprio perché è costituito dalla somma di due termini moltiplicata per la loro differenza. Ora, se svolgiamo termine a termine questa moltiplicazione, otteniamo un A per A che dà come risultato A quadro, poi abbiamo un A per meno B che fa meno AB, un B per A che fa un più AB e poi abbiamo un B per meno B che fa meno B quadro. E come vedete, dei quattro termini che ci sono comparsi qui, due si semplificano tra loro e quindi ci ritroviamo con un A quadro meno B quadro come risultato. E che cosa sono questo A quadro e questo B quadro? Beh, vedete, sono i quadrati dei due termini che avevamo all'inizio all'interno delle nostre parentesi. E quindi che cosa abbiamo scoperto? Che il prodotto tra la somma di due termini e la loro differenza dà come risultato la differenza tra i quadrati dei due termini. E se a questo punto ci memorizziamo questo risultato come se fosse una regoletta, la prossima volta che troviamo uno scenario del genere, possiamo saltare direttamente da qui a qui senza dover fare questo passaggio intermedio. Per fissare meglio le idee, diamo subito un'occhiata ad un paio di esempi. Supponiamo che ci chiedano di calcolare quanto fa 3x più 2y moltiplicato per 3x meno 2y. Come vedete siamo esattamente in questa situazione qui, solo che al posto di avere A e B abbiamo questa volta 3x e 2y. E quindi, alla luce di quello che dicevamo poco fa, noi sappiamo che il risultato di questa operazione sarà la differenza tra il quadrato del primo termine, ovvero il quadrato di 3x, e il quadrato del secondo termine, ovvero il quadrato di 2y. E quindi, svolgendo i calcoli, concludiamo che il risultato è 9x quadro meno 4y quadro. Similmente, se dovessi svolgere 2 terzi x meno 1 per 2 terzi x più 1, e vedete che siamo di nuovo in questo scenario, solamente che stavolta abbiamo prima la differenza e poi la somma dei due termini, di nuovo il risultato sarà semplicemente la differenza tra il quadrato del primo termine, quindi il quadrato di 2 terzi x, e il quadrato del secondo termine, dunque il quadrato di 1. E svolgendo i due quadrati, si conclude che il risultato è quindi 4 noni x quadro meno 1. Naturalmente, sia nell'esempio precedente che in questo esempio, si poteva volare direttamente al risultato, saltando il passaggio intermedio, nel momento in cui uno ha capito come funzionano le cose, perché questi sono dei calcoli che si possono fare tranquillamente a mente senza bisogno di scriverli. Ma naturalmente non c'è nessun problema se il primo termine tra i due è negativo. Quindi ad esempio se dovessi svolgere meno x cubo più z per meno x cubo meno z, ragionando analogamente agli esempi precedenti, posso dire che questo fa il quadrato del primo termine, quindi il quadrato di meno x cubo, meno il quadrato del secondo termine, cioè meno il quadrato di z. E dunque il risultato sarà x alla sesta meno z alla seconda. Vale poi la pena di notare che il prodotto notevole funziona anche se al posto di a oppure di b non c'è un singolo termine, ma c'è magari una somma di due termini. E per capire quello che intendo diamo un'occhiata a questo esempio qui. Vedete che nella prima parentesi abbiamo x più y a cui viene sommato 1 e nella seconda abbiamo x più y a cui viene sottratto 1. E quindi vedete siamo esattamente in uno scenario di questo tipo in cui la nostra a è rappresentata dalla somma x più y, mentre il nostro b è il numero 1. Esegui quindi che il risultato di questa moltiplicazione sarà il quadrato del nostro a, cioè il quadrato di x più y, meno il quadrato del nostro b, ovvero meno il quadrato di 1. E dunque si conclude che il risultato è x quadro più 2xy più y quadro, che sarebbe questo quadrato qui svolto, meno 1. Prima di salutarvi volevo poi cogliere l'occasione per fare un paio di osservazioni interessanti. La prima, e mi raccomando bisogna stare attenti a questo fatto, è che se entrambi i termini all'interno delle due parentesi che state moltiplicando cambiano di segno, allora non si tratta più di una somma per differenza. E dunque in uno scenario come questo, dove vedete abbiamo a meno b che viene moltiplicato per b meno a, il risultato non è la differenza dei quadrati dei due termini, come si ottiene in questo scenario qui, ma quello che si ottiene, vedete, è meno il quadrato di b meno a. E il motivo è che se ci riscriviamo a meno b come l'opposto di b meno a, portando quindi un meno fuori dalla parentesi, vedete che ci sono due parentesi uguali che danno vita a questo quadrato e non alla differenza di quadrati come succedeva prima. Quindi mi raccomando, attenzione a questo fatto qui. Mentre l'altra cosa che volevo dirvi è che anche questo prodotto notevole può essere volendo interpretato geometricamente, sempre nell'ipotesi che a e b siano delle quantità positive, e qui sopra vi ho riportato il corrispondente scheminografico. Come vedete, un rettangolo avente i lati lunghi rispettivamente a più b e a meno b, che sono esattamente i due termini che stiamo moltiplicando qui, volendolo possiamo spezzare in due sottorettangoli, quello verde e quello giallo, che possiamo naturalmente poi ridisporre in questo modo qui, e come si vede dai due disegnini, la somma delle aree dei due rettangoli, ovvero l'area del rettangolo di partenza che sappiamo essere a più b per a meno b, è uguale all'area di un ipotetico quadrato di lato a, a cui dobbiamo togliere l'area di un ipotetico quadrato di lato b, ed ecco l'a quadro meno b quadro che ci ritroviamo nella formulina. Detto questo ragazzi io per il momento ho terminato, proseguiremo il discorso nel prossimo video dove parleremo del cubo del binomio e del quadrato del trinomio. Come sempre, se trovate utili queste lezioni ricordatevi di mettere mi piace, passate a trovarmi su facebook ed instagram e date un'occhiata all'interno del canale dove troverete moltissimi altri video.